Il match di oggi che si rispuderà sul prato dell'Etihad Stadium, ovviamente sold out. Qui vi parla Pierluigi Pardo con Stefano Nava che commenterà con me il match. Ultimi 90 minuti da seguire col fiato sospeso che potrebbero regalare loro la salvezza. Un match da non perdere Stefano. Palla in verticale sull'attaccante. Derdiok. Pallone profondo, pericoloso. Azione sfumata senza problemi. C'è l'errore, palla recuperata. Derdiok. È arrivata la segnalazione, l'arbitro ha fermato il gioco, la posizione è irregolare. Irregolare ma l'azione di gioco è stata molto spettacolare. Lampard. Ristituisce bene il pallone. Interviene proprio all'ultimo e salva. Lampard. Apre sulla fascia. Pasquale. Pallone riconquistato agli avversari. Pallone riconquistato agli avversari. fatto qui, regalano palla agli avversari, si butta in avanti, attenzione perché questa può essere l'azione che vale il vantaggio, riconquista palla intercettando la traiettoria del passaggio, efficace il possesso palla con una serie prolungata di scambi, palla che termina oltre la linea di fondo, non un grande passaggio in effetti, allontana la minaccia, Derdiok, recupera palla e fa ripartire i suoi, ha spazio lungo l'out, può colpire da lì e il portiere recupera il pallone, protegge il pallone con il corpo, puntuale qui il difensore nel recupero, Matisse, c'è la Touche, la rimessa con le mani, grande intervento del difensore, pressing che funziona e pallone recuperato, gran palla scavalcare la difesa, vediamo cosa fa ora, arbitro che ferma il gioco, sceglie il tocco corto, Lampard, può metterla in mezzo, e c'è il gol che potrebbe mettere fine alle loro speranze di salvezza, questo risultato non fa che confermare le difficoltà evidenziate da questa squadra durante tutta la stagione, ma devono crederci fino in fondo, i conti si fanno sempre alla fine. Ed ecco dunque arrivato il primo gol dell'incontro, 1-0. Grande intervento del difensore in area. Ottima la lettura del difensore che ha capito tutto e ha recuperato il pallone. Occhio cerca l'area di rigore. Buono il pallone recuperato. Brutto cross, nessun problema per la difesa. Ha calciato con forza dalla media distanza, sfiorando il palo. Tiro che aveva dato l'illusione del gol da qui, eh? Ha poco da rimproverarsi. Intervento tempestivo del difensore che intercetta il passaggio. Tenta l'imbucata qui per il compagno. Cross al centro. Attenta qui la difesa, palla allontanata. Intervento fondamentale in area di rigore. Ripalta sul fronte opposto. Capisce tutto il difensore, ottimo intervento. C'è campo per andare, attenzione. Pallone invitante. Lettura perfetta e palla recuperata. Posizione ideale. Efficace il possesso palla con una serie prolungata di scampi. Deviazione di testa che sorvola di poco la traversa. C'è andato vicino. Questione di centimetri. Possesso regalato qui. Pallone spazzato via bene dalla difesa. L'arbitro ha concesso un solo minuto di recupero. Può cercare il cross. Buono l'anticipo del difensore. Chance da calcio all'angolo per raddoppiare il vantaggio. Difensore attento sul cross. Può ribbiare. L'arbitro manda tutti negli spogliatoi per il momento. 1-0 dopo i primi 45. Una partita complessivamente equilibrata. Nella quale sarà decisiva la concentrazione. E ovviamente anche il gesto. Può cercare l'angolo per il momento. Ecco il calcio d'inizio e lo secondo tempo. Derdy Hock. Pallone perso. Pallone che torna agli avversari. Intercettano bene il pallone. Viene pressato. Avanza, palla al piede. Buono questo passaggio. Grande tempismo da parte del difensore. Intervento spettacolare. Ci sono metri per andare. Buona rete di passaggi. Qui però hanno esagerato nel possesso del pallone. C'è il rilancio a lungo. Sventa il pericolo e allontana. Palla recuperata di nuovo dalla formazione avversaria. Possesso perso. Buono quindi intervento del difensore. Sarà a fallo laterale. Duello tutto di forza. Pallone che è uscito. Sarà a fallo laterale. Guarda il movimento in aria. Ci pensa lui a spazzare via. C'è la rimessa con le mani. Può nascere qualcosa di interessante. Pallone che è uscito. Ci sarà rimessa dal fondo. La protegge bene col corpo. Palla consegnata agli avversari. Guadagna metri. Attenzione tutto solo. Grande uscita a valanga. Coraggiosa del portiere. Eh sì. Se l'hai trovato addosso. Prima di poter tirare. C'è l'errore. Palla in fallo laterale. Rimessa battuta male. Posizione buona per il cross. Non può fallire. Attenzione. Si avventa sul pallone. E lo spazza. Azione che sfuma. Fanno girare benissimo il pallone. Buono l'intercetto della difesa. Continua a offrire grandi palloni ai compagni. C'è campo per andare. Attenzione. Stanno sbagliando un po' con il possesso palla. Non un grande passaggio in effetti. Derdi Oc. Perdono palla banalmente. Riconquistano bene il pallone grazie al pressing. Bravo qui il difensore che legge bene questo pallone. Avanza palla al piede. Palla troppo lunga. Nessun problema per il portiere. Lampard. La difesa la meglio e allontana il pallone. Spazio per il cross. Bravo qui nell'interrompere tutto. Hanno spazzato via ma c'è il recupero ancora del pallone. Palla che esce. Sarà fallo laterale. Recupera palla e fa ripartire i suoi. Aumenta ancora l'intensità della spinta dei tifosi di casa che vogliono trovare subito il gol. Lo stadio è una vera bolgia. Il pubblico si sta dimostrando il dodicesimo uomo in campo. Potrebbe andare al cross. Lampard. Ottima la copertura. Ultima chiamata per loro. Devono gettare il cuore oltre l'ostacolo se vogliono evitare la retrocessione che per quanto si è visto in campo appare purtroppo per loro probabile. Scendere di categoria sarebbe un grosso smacco per questo club tanto a livello sportivo come di immagine. È anche vero però che arrivare a giocarsi la salvezza l'ultima giornata conferma il fatto che la loro è una rosa che va sicuramente migliorata. Siamo entrati negli ultimi cinque minuti di gara. Siamo nei minuti finali. Partita ancora aperta. Ogni errore può essere decisivo. Regalano palla agli avversari. ultima speranza per arrivare al pareggio. La squadra avversaria riconquista il pallone. il duello molto fisico. Derdiok esce e recupera il pallone. Un minuto indicato dal tabellone del quarto uomo. Non c'è più tempo.